Sono tre le liste che il 12 ottobre prossimo concorreranno per l'elezione del primo consiglio della città metropolitana di Bari. La coalizione di centrodestra e quella di centrosinistra hanno presentato liste unitarie per ciascuno schieramento, in corsa anche un raggruppamento di civiche. Le forze del centrosinistra corrono con Città Insieme, sostenuta da Partito Democratico, SEL, Realtà Italia, con liste civiche che sostengono il sindaco Antonio De Caro e il presidente della regione, Nichi Vendola, e la lista Pisicchio. I candidati sono 18, cioè il massimo possibile per lista, e tra loro vi sono tre donne. Per il centrodestra è stata presentata Alleanza per la città metropolitana, sostenuta da Forza Italia, Udc, Fratelli d'Italia, Impegno Civile e Movimento Schittulli. Anche in questa lista sono 18 i candidati, due dei quali donne. La terza lista, Terre Democratiche, raccoglie nove candidati appartenenti a liste civiche. Si voterà domenica 12 ottobre, dalle 8 alle 20, nella sala giunta del Palazzo della provincia di Bari, per eleggere i 18 consiglieri metropolitani. Hanno diritto al voto i 717 sindaci e consiglieri comunali dei 41 comuni della provincia di Bari. A loro sarà consegnata una scheda elettorale di colore diverso, a seconda del peso specifico del voto, che varia in base alla popolazione residente in ciascun comune. Si passa da un indice ponderato di 820 per Bari a un indice di 15 dei comuni di Bitetto e di Poggiorsini, che sono i più piccoli della provincia. Ogni sindaco o consigliere è comunque chiamato ad esprimere una sola preferenza. Dopo il deposito delle liste avvenuto ieri, l'ufficio elettorale sta concludendo la verifica della correttezza formale relativa al materiale elettorale. Grazie. Grazie. Grazie.